Ecco, come Promo Serio siete stati a Londra. Esatto, il weekend scorso siamo andati alla Ski e Snowboard Show dove per la prima volta Promo Serio supera i confini nazionali per andare a promuovere la Vassariana e la Val di Scalve. Una fiera molto interessante dal punto di vista sia tecnico che anche dall'afflusso di persone ovviamente in centro a Londra i maggiori comprensori sciistici ma più che altre maggiori nazioni e regioni che promuovevano le loro attrattive invernali. Infatti accanto a noi che eravamo nello stand della regione Lombardia grazie anche alla collaborazione con Turismo Bergamo c'era la Norvegia, il Canada, il Tirolo e altre importanti realtà sciistiche di tutto il mondo. E avete raccolto l'interesse dei partecipanti verso il nostro territorio? Esatto, abbiamo raccolto molto interesse nei nostri confronti anche perché abbiamo spinto e distribuito tanto materiale e grazie a un concorso abbiamo anche acquisito nuovi contatti a cui appunto mandare materiale relativo al nostro territorio. Avete in programma di andare ancora oltre i confini della nostra nazione? Esatto, per il 2015 sono in programma altre uscite perché ci siamo resi conto di come la stagnazione del mercato nazionale ci porti a promuovere il nostro territorio all'estero. Infatti crediamo che un buon calendario sarà predisposto per il 2015 dalla Svizzera e anche altre nazioni per promuoverci. Il mercato estero che è l'unico ad oggi in cui si può ancora scommettere.